Ed è arrivato anche il momento per loro, la categoria dei pro! Al primo posto è arrivato lui, il... Danny Stryfanos Il nostro Danny! Danny! Ma quanto hanno esultato per la tua esibizione? Non ho capito? Quanto erano contenti? Quanto erano contenti per la tua esibizione? Chi? Il pubblico! Tutti! Eravamo tutti contenti! Guarda, io quando stavo sul stage era difficile di sentire dal pubblico, però credo che... Ah, quindi tu mi stai dicendo che non hai visto nulla, tutti che facevano il tifo per te... Noi siamo rimasti senza voce! Erano... Per soltanto a tua! Possiamo dire che sono talmente emozionati e concentrati sul fatto che devono esibirsi che non hanno prestato attenzione a quello che girava intorno a loro. Allora, tu sei stato molto, diciamo, seguito e molto acclamato, come si vuol dire, perché sei stato... è stata un'esibizione molto bella, complimenti! Abbiamo anche un secondo posto? Alessandro Pizzeri? Alessandro, un'emozione al volo! Eh, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, sono contentissimo e spero di continuare su questa strada. I tuoi compagni invece ci hanno creduto più di te perché già ti avevano spinto! Mentre Charlie, alla tua destra, ha il terzo classificato! Ha il terzo classificato ed è Christophe, il cognome lo dirai tu, ovviamente, e lui voleva dire qualcosa in italiano. Tell us! In italiano? Yeah! Sono molto contento del terzo posto! Bene, bene, quindi soddisfatti! Allora, questo primo posto cosa farai? Da questo momento in poi, con questo premio, cosa farai? Ehm, niente! Non niente! Compro bitcoin! Ah, ecco, quindi acquisterà, acquisterà, non ho capito cosa... Erano attrezzi del mestiere! Ah, quindi noi non siamo del mestiere, quindi non possiamo capire, arriviamo fino a un certo punto. Quindi lui, con questo premio, con questa vincita, acquisterà degli strumenti che servono per questa professione. Lui è molto easy, vedi? Non ce l'ha neanche... No, ma lui niente! È talmente modesto, è talmente modesto che non si è neanche reso conto che ha vinto il primo posto. E no! Allora, dal nostro salotto Charlie è tutto, questo è Pop-Up Style. Spero di avervi... che vi abbiamo tenuto in compagnia, una sana competizione, tanta allegria, tanta musica! Divertire noi! Grazie! Ringraziamo tutto lo staff di Radio Zenit per l'appuntamento e al prossimo evento con Pop-Up Style! Grazie! Grazie! Ciao! A riterci! Ciao!